Un'importante occasione di sviluppo e al tempo stesso un progetto giudicato irrealizzabile. Sembra un paradosso ma è quanto ribadito dagli amministratori di Chieti e San Giovanni di Atino, due dei comuni interessati all'otto zero della velocizzazione della rete ferroviaria Roma-Pescara, progetto di RFI già consegnato alla regione in fase di via valutazione di impatto ambientale. Il lotto zero per intenderci è il tratto di circa 20 chilometri che parte dalla stazione di Pescara-Portanuova fino all'interporto di Manopello, naturalmente passando per San Giovanni di Atino e Chieti, tratto per il quale RFI vuole il semplice raddoppio di binario in superficie. La novità emersa dalla conferenza di oggi è la posizione del Comune di Chieti, come spiega il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo. Questo progetto, questo finanziamento deve fare paio con lo sviluppo del territorio. Nel caso specifico di Chieti è importante e fondamentale è che una tratta che riguarda il centro urbano deve essere tombato, completamente interrato. Parliamo di quanto, quanto a lunghezza? Sì, parliamo di circa di 5 chilometri da via Tirino, dallo stadio, così riusciamo a capirci, dallo stadio fino a Madonna delle Piane, dove ci sono funzioni importanti. C'è la parte sportiva dello stadio, c'è la stazione storica nostra, ci sono altre funzioni del centro storico, c'è l'università, c'è l'ospedale. Noi immaginiamo su questa tratta, sotto passa la velocizzazione, passa il collegamento con le altre città, al di sopra c'è un collegamento urbano della città dolce, pedonale con le biciclette. Il progetto RFI invece cosa dice? Il progetto RFI fa semplicemente un raddoppio, c'è una tecnologia di 150 anni fa, viene riproposta oggi ed è improponibile. Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di San Giovanni Tiatino, Giorgio Di Clemente, che peraltro da anni ha chiesto l'interramento nel tratto urbano di competenza. Un interramento che riguarda il più lungo possibile il nostro territorio, ma come minimo, come minimo, 800 metri con stazione ammesso eccetera, perché oggi se amiamo la vita dobbiamo amare il verde, una pista ciclo pedonale, una pista che possa dare bellezza e non distruzione. Questo progetto distrugge il paese, distrugge il centro come tutti i territori. Lei ha già fatto una protesta piuttosto clamorosa contro questo progetto, come intende andare avanti, che cosa può fare ancora? Non è stata una protesta, è stato un segnale. Non lo chiamo protesta, ne avvertimento, lo chiamo un amore per la città, per il territorio. Ringrazio anche il sindaco Ferrari che è venuto a darmi un manforte. Io sono certo che anche gli artesini, anche quelli che non sono ingatenati, non sono pronti a vendere o a svendere il territorio. Quindi sono certo che se occorrerà sono pronto a fare altri passi, sempre con moderazione, per essere ascoltato in modo positivo e non distruttivo.